Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, traffico bloccato e coda di due chilometri per incidente tra Firenze Sud e Incisa Reggello nella carreggiata in direzione di Roma. In FIPILI restano rallentamenti per traffico tra Ponte della Est e Ponte della Ovest in direzione mare, possibili disagi inoltre per lavori tra Montelupo e Ginestra nelle due direzioni. Ci spostiamo sulla SR429 di Valdelsa, dove troviamo fino a fine mese senso unico alternato e restringimenti per lavori tra i chilometri 56 e 173 e 2 circa nei comuni di Empoli e Castelfiorentino. Voltiamo pagina per il traffico ferroviario a causa di un guasto temporaneo e gli impianti di circolazione tra le stazioni di Arezzo e Castiglion-Fiorentino. I treni della linea Arezzo chiusi potranno subire ritardi e variazioni. Muoversi in Toscana Infio, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!